Papa Francesco si è fatto parroco per un pomeriggio visitando con grande semplicità alcune case popolari in un quartiere di Ostia. È accaduto ieri in un nuovo ed inatteso venerdì della misericordia che ha condotto il pontefice dal Vaticano in un condominio di piazza Francesco Conte Duca nella periferia di Roma. Accompagnato da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, Papa Bergoglio ha suonato a sorpresa il campanello di ogni abitazione. Ha colto con grande gioia e stupori, ha benedetto una dozzina di appartamenti, come è solito fare il parroco nel periodo pasquale, poi ha recitato con le famiglie l'Ave Maria e altre preghiere e lasciato in dono un rosario. Ha persino scherzato con gli inquilini scusandosi per il disturbo, ma rassicurando tutti di aver rispettato l'orario di silenzio in cui i condomini riposano dopo il pranzo, come recita il cartello affisso all'ingresso del comprensorio. Forte la commozione e la gioia di grandi e piccoli che aspettavano il parroco don Plinio Poncina ed invece hanno ricevuto questa straordinaria ed inaspettata visita del Pontefice.